Ciao a tutti, benvenuti su Gossip News Ita, il vostro canale preferito per rimanere aggiornati sulle ultime pettegolezzi e notizie del momento. Oggi affronteremo uno degli avvenimenti più discussi dal grande fratello duo spagnolo, l'eliminazione shock di Luca Onestini dopo soli pochi giorni nella casa, e la sua reazione non è passata inosservata. Luca, ex tronista di Uomini e Donne, era entrato in coppia con Ivana Icardi, ma il televoto ha decretato la sua uscita, nonostante Ivana abbia ottenuto il 60% delle preferenze. Luca si è mostrato sconcertato e deluso, ribadendo di non ritenersi meritevole di quella decisione. La situazione è sfociata in un'accesa discussione nello studio televisivo, con il fratello di Luca, Gianmarco, che ha difeso a spada tratta il suo parente. Una lite epica è scoppiata tra Gianmarco e l'opinionista Maite Ametla, che ha criticato Luca definendolo un belloccio insipido e accusandolo di rendere noiosa la sua permanenza nella casa. Prima di continuare con la discussione, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale Gossip e News Ita, di lasciare un like se il video vi piace, e di condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Il vostro supporto è fondamentale per noi. Grazie a tutti voi che ci seguite su Gossip e News Ita. Continuate a essere aggiornati su tutti i pettegolezzi e le notizie del momento. Ci vediamo alla prossima puntata.